Un cordiale saluto e buongiorno a tutti voi carissimi telespettatori di Fano TV, come sempre tantissimi a guardare tutte le mattine in diretta alle 7.30 la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali del resto del Carlino e del Corriere Adriatico, soprattutto le edizioni di Pesaro e Urbino. Un saluto anche a chi ci segue dalle località di villeggiatura, a chi ci segue dalle località sparse in giro per il mondo attraverso internet, attraverso il nostro sito internet www.tokionotizia.it. Andiamo subito a vedere il santo di oggi. Il santo di oggi è Sant'Arsemio il Grande, è stato un'eremita. Il sole è sorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.46, quindi piano piano cominciano ad accorciarsi anche le giornate. Il tempo per la giornata di oggi. Guardate la cartina pubblicata sul bollettino della protezione civile delle Marche, nel sito della Regione. Oggi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, ci saranno addensamenti sui rilievi più alti nelle ore centrali della giornata e ci saranno anche possibilità di isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane sui rilievi meridionali della Regione. Le temperature sono comunque in aumento, i venti di brezza tesa da sud nelle zone montane, mentre orientali sempre da sud lungo la costa e la fascia collinare. Il mare sarà quasi calmo, poco mosso nelle ore centrali. Per la giornata di domani, giovedì 20, il tempo migliora anche al sud e sulla costa ci sarà bel tempo. Ci sarà anche però del vento, ancora venti di brezza tesa. Ritorna un leggero peggioramento sempre sulla parte meridionale della Regione, le temperature saranno ancora in aumento e i venti continueranno a soffiare anche per la giornata di venerdì. Sud orientali sempre lungo la costa e la fascia collinare. C'è da dire che per il fine settimana, a parte la giornata di sabato, che forse sempre nell'entroterra sarà un po' così così, per il resto dovremo avere ancora tempo buono. Forse peggiorerà un po' nella giornata di martedì, ma di questo ne riparleremo nei prossimi giorni. Intanto c'è il problema della siccità, c'è il problema che non piove e dunque, per esempio, succede che vengono fuori le alghe e quindi, come titola questa mattina il resto del Carlino, vanno all'attacco e sporcano, rovinano, inquinano in qualche modo. Insomma, il potabilizzatore vicino al K.O., l'acquedotto è a rischio, colpa del troppo caldo, ci vuole più afflusso d'acqua dal pozzo del Burano e allarme, scrive il resto del Carlino. Poi sotto la testata, l'esercito di ubriachi al volante. Pensate, sono state ritirate, sinora, 400 patenti. C'è chi deve presentarsi con le analisi pulite, dopo aver scontato la sospensione della patente. Sono aumentati i casi, ma dipende anche dai controlli. La pagina di Fano, invece, è per il progetto della nuova piscina. La città che cambia, questa piscina è frutto dell'accordo con il Fondo Cives e il Comune di Fano. La fondazione approva il priminare all'unanimità. La superficie si estende su 30 mila metri quadrati, con una vasca da 25 metri e tre vasche più piccole. La Rocca Manatestiana, che è stata recuperata, è stata restaurata, è già tutto esaurito, perché a Pesero intanto si fanno i conti con la capienza dell'altra rocca, che probabilmente verrà demezzata. Fano, invece, da 80 posti passa a quasi 900, insomma, ed è pronta al colpaccio. È stata anche affidata la gestione della rocca a quattro soggetti, tra cui anche Amat, e sabato verrà inaugurata. Poi guardate il mezzo busto, la statua dell'Isipo, ormai famosissima in tutto il mondo. Ebbene, perché oggi si parla dell'Isipo? Perché Ighetti, che possiede a Malibu, in California, la statua ripescata a largo di Fano negli anni 60, dopo la venere di Morgantina, ha deciso, nelle settimane scorse, di restituire all'Italia un'altra opera d'arte che è in suo possesso, ed è di dubbio e provenienza. Questa volta, a far rientro nel nostro paese, è una statuetta di marmo pescata in mare, raffigurante Zeus seduto in trono, risalente al primo secolo avanti Cristo. Allora, Berardi si domanda, insomma, perché la venere di Morgantina sì, perché Zeus sì, e ancora l'Isipo invece no, è ancora là. Outlet di Marotta, ora il fronte del no è sul piede di guerra. Cinque Sterle e Varotti parlano e dicono, questo outlet sarà un colpo mortale per il territorio. Comunque c'è il via libera alla valutazione ambientale, che è strategica per poi autorizzare la variante, dunque dare l'ok per costruire questo grande outlet a Marotta. Sul canale Albania ancora si discute se riportare le anatre oppure no nel canale. Sapete, il canale è prosciugato, molte sono morte, sono state portate via, le hanno portate al lago vicini, allo stagno urbani. Adesso i grillini chiedono di riportarli nel canale, non tutti però sono d'accordo, per loro si parla di inutile stress. Insomma, dice invece addio a questi animali, che lui stesso tra l'altro ha immesso nel canale Giuseppe Curina, che abbiamo intervistato anche l'altro giorno nel nostro telegiornale, secondo il quale per questi animali ormai non c'è più nulla da fare. Perché? Perché è già stato deciso l'allontanamento e per ora e per sempre, con presunta soddisfazione del comune e anche di Enel, Enel che è proprietario del canale Albani. Andiamo sulla cronaca di Pesaro, sempre del resto del Carlino. Saccheggiato uno studio dentistico, i ladri hanno rubato di tutto, è successo al centro San Pellegrino in via del Novecento, poi tra le varie notizie di cronaca che potrete leggere questa mattina sul giornale, girava in mutande e ciabatte, è successo in via Bramante a Pesaro. L'autovelox, il provvedere degli autovelox, ce n'era uno nascosto, quello delle silicate, e il giudice ha annullato le multe. Il casottino, infatti, quello arancione delle silicate, violava la legge perché è coperto dalla vegetazione. La sentenza parla anche del guardrail che copre il box, adesso è stata tagliata l'erba, però, insomma, a secondo tentativo è andata bene per gli automobilisti e quindi è stata annullata la multa. Il primo ricorso invece venne fatto alla Prefettura che però respinse tutte le argomentazioni. E qui qualcuno penserà sicuramente all'autovelox che c'è per esempio sulla E78, sulla Fano Grosseto in direzione Monte, dove all'uscita di Lucrezia c'è un bel autovelox della Polizia Stradale che è praticamente nascosto dal grande cartello che indica l'uscita del casello di Lucrezia. Allora, se la legge o se le regole sono uguali per tutti, anche quello dovrebbe essere in qualche modo o spostato o indicato, comunque reso più visibile. C'è un cartellino, sì, piccoletto, un quadratino con il simbolo del poliziotto, ma insomma poca roba. Il resto è veramente completamente nascosto, un po' come quello che vedete nella fotografia qui pubblicata sul resto del calino. Sull'emergenza idrica il resto del calino dedica una pagina del Pesaro Primo Piano, tavernelle boom di microaighe, potabilizzatore in grave difficoltà, a rischio l'acquedotto che fornisce Pesaro e Fano. Questo per il troppo caldo. Andiamo sull'altra pagina invece. Sulla pagina di Urbino ieri c'è stato un incontro per quanto riguarda il delitto di Sant'Angelo, un incontro forzato, perché era dentro un'aula di tribunale, tra la giovane albanese indagata per concorso in omicidio premeditato e la madre di Ismaele Lulli, il giovane di 17 anni che è stato barbaramente ucciso due anni fa, il 19 luglio del 2015. Ebbene, c'è stato questo incontro in procura tra le due donne. La madre, Gela Ambera, le dice vergognati. Deborah Lulli dice mi ha salutato, aveva un ghigno. C'è anche un altro sfogo della mamma di Ismaele che dice deve fare la fine degli altri due, che intanto sono già in carcere, stavolta però devono fare più in fretta. Cambiamo giornale. Andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. La nuova Rocca si fa in quattro e prepara eventi fino a settembre. Il bando di gestione non ha dato risultati. La struttura sarà dunque governata da un pool e da sabato la Rocca Malatestriana a Fano riaprirà al pubblico con eventi quotidiani in piazza d'armi e 746 posti a sedere. Per chi ha così voglia di rivivere un po' gli anni 70 e quindi vestirsi un po' da figli dei fiori, Fano festeggia l'amore da venerdì a domenica, musiche serate anni 70, dalla spiaggia dell'Arzilla fino alla spiaggia di Sassonia. La promozione del Carnevale estivo è stato un flop, così sostiene Mirisola di Forza Italia, che si scaglia contro l'assessore alla cultura Stefano Marcheggiani, che finisce nel mirino insieme ai fondi e alla strategia di comunicazione per il Carnevale. Fano, dice Mirisola, deve puntare sull'evento invernale e sulla romanità invece in estate. Fatto così non serve assolutamente a nulla. Anche qui il canale Albani in evidenza, pieno solo di polemiche, 5 Stelle ironizzano con l'assessore Mascarin, dice non sa che pesci pigliare, e propongono un'oasi ecologica con il Green Power. L'assessore Replica dice le operazioni di salvataggio di questi animali sono state tempestive, loro giocano, inteso come i 5 Stelle, a dividere la città, mentre gli animali sono stati salvati e non sono ornamenti. L'idea del 5 Stelle invece è di apportare acqua nelle stagioni secche, derattizzare tutta la zona, perché di topi se ne vedono a gogo, nella parte dei passeggi, e poi il contenimento del limo. Dalla Valle del Cesano invece, consultazione per decidere se reessero o no i rovereschi. Dopo la fusione c'è in ballo la scelta del patrono. Sapete che terre roveresche, così come il Colle del Metauro, nasce dalla fusione di alcuni paesi. Alcuni paesi che fino all'anno scorso aveva ognuno il proprio patrono. Adesso di 3-4 paesi bisogna deciderne uno di patrono. Allora, con San Giorgio, però, secondo il giornale, potrebbero nascere dei problemi. Pergola, l'estate è colorata, tra notte verde e medioevo. Entra nel vivo il calendario delle notti colorate pergolesi, nella terra del gusto e dell'accoglienza. È un programma, senz'altro, ricco, variegato, di qualità, quello che ha realizzato l'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. Il 18 di agosto c'è anche la rievocazione dell'arrivo delle spoglie dei Santi II, Agabito e Giustina. Poi, da Senigallia, sempre dal Corriere, pugno duro contro il lettino selvaggio. C'è stato un blitz e anche delle multe della Guardia Costiera senigalliese. Sei bagnini sono finiti nel mirino per essersi allargati un po' troppo. La stangata anche per gli ombrelloni fuori dalla concessione. Mentre in questa fotografia vedete il recupero di una barca a vela che si è incagliata nel porto di Senigallia. Ancora da Senigallia la cronaca con la brigata alcolica, così viene chiamata e definita, che si è scagliata contro le bancarelle. Gli ambulanti chiamano i vigilantes. Gli operatori dicono ci sono qua troppi giovani ubriachi. Fanno i vandali, rubano le biciclette e insultano pure. E poi a Senigallia ce ne regala ogni giorno una. L'ultima moda è quella di staccare la targa dell'auto in sosta. E vabbè. Travolge un bambino, siamo sulla cronaca di Iesi, invece scappa via. Il pirata della strada è una donna, una cinquantenne che è stata identificata dai carabinieri grazie ai testimoni dell'investimento. E poi da Pesaro invece i balordi che fanno bivacchi, lasciano in giro siringhe nel parco, un parco che tutti evitano. L'operatore ecologico dice dopo i repulisti al Miralfiore molti si sono spostati davanti alla stazione e qui dice lui si trova veramente di tutto. Chiudiamo con Urbino, Ambera e Igli, un gelido silenzio tra i due ex, perché erano fidanzatini, neppure uno sguardo. In procura per l'incidente probatorio c'era anche Mario, nessuno dei tre però ha risposto. Sotto invece scontro tra un'ape 50, un'ape e un autocarro grave, un sedicenne, il ragazzo ha ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Torrette di Ancona. Anche se poi in realtà sul resto del Carlino non l'abbiamo visto, ma ve lo cito lo stesso, pare che non sia in prognosi riservata, che comunque stia bene, quindi era soltanto finito all'ospedale Torrette di Ancona con l'elicottero, perché ai primi soccorritori non stava un granché, insomma pareva che l'incidente fosse un po' così così, insomma un po' grave. Anche perché guardate, grazie ai nostri reporter di strada che hanno pubblicato sulla nostra pagina Facebook appunto la segnalazione, questa è l'ape 50 sulla quale viaggiava questo ragazzino di 16 anni, che si è scontrato con un furgone, un camion che poi è finito al lato della carreggiata, successo vicino a Urbino. Ebbene, ai primi soccorritori il ragazzino che è sbalzato fuori dall'abitacolo, da un piccolo abitacolo, insomma sì, stava bene, però non si sa mai, allora per precauzione l'hanno mandato al Torrette di Ancona. Poi nel tardo pomeriggio si è saputo che comunque il ragazzino stava bene. Grazie ai nostri reporter di strada come sempre preziosissimi e che collaborano ogni giorno con la nostra redazione, con il nostro telegiornale. Fatelo anche voi, 338 4968 250. Ricordo anche che le segnalazioni più forti, le segnalazioni più importanti, le immagini o i video più in esclusiva sono anche premiati con una ricarica di 5 euro, il minimo che possiamo fare. Grazie per averci seguito, a voi tutti gli auguri di una buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.